Guarda quei due già, hanno un qualcosa, sono meravigliosi i nostri figli Hanno una sorta di aura misteriosa, non trovi? Ti ricordi quando tu avevi le tette e io no? Voglio sapere tutto sulle tue tette Guarda la faccia di tuo figlio La notte scorsa sono andato in cucina e ho visto mia madre Che usciva dalla camera dove dorme lui È impossibile Tom, che stai facendo? Ehi, dove sei stato? Da Lilla A fare con lei quello che Ian ha fatto con te Abbiamo superato il limite, non dovrà più succedere No, mai più Tutta questa storia è inaccettabile Io la amo Allora, brindiamo alle nostre madri Sì Grazie tesoro Grazie a tutti Grazie a tutti.